Giorgio Marchesi, chi sono i figli, chi è la moglie Simonetta Zolder? La coppia ha dato alla luce due figli, Giacomo, che ha 15 anni e Pietro Leone che ne ha 8. Dei loro figli si hanno poche notizie, perché sono molto piccoli e vogliono proteggerli dai gossip e da false notizie. Giorgio Marchesi ha rivelato di essere un padre davvero intransigente, se superano la soglia. Vengono subito sgridati. Non sono un amico, sono un padre severo, a volte duro, su alcune regole non transigo. L'attore ha raccontato che diventare padre per lui non è stato affatto semplice perché avevano pochi soldi. Lavori precari in teatro e zero aiuti familiari. Inoltre, non sapeva come fare il padre. Ha dichiarato, il primo figlio mi ha distrutto psicologicamente. Non avevo idea di come affrontare la paternità. Non ero pronto e ho dovuto imparare, ma è stata un'emozione stupenda. Con il secondo. Invece, è andata meglio, con il secondo figlio è stato fantastico. Ha dato equilibrio alla famiglia ed è stato più facile perché eravamo preparati e più sereni, anche lavorativamente parlando. Grazie a tutti. Grazie a tutti.